Rimettiti in forma, vieni da Baia Spa. Meraviglioso percorso di tre ore, centro massaggi e trattamenti estetici corpo, viso, mani e piedi. Inoltre puoi prenotare una serata esclusiva in spa completa di servizio aperitivo per il tuo compleanno o ricorrenza speciale. Prenditi cura di te. Con Baia Spa puoi, per te, 20% di sconto sull'estetica base. Grazie per la visione!